A parte la novità che conosciamo tutti, il fatto che c'è stata la prima ritima di coronavirus e abbiamo fatto, ovviamente esteso, tramite la struttura sanitaria, condoglianza della famiglia e il quadro si è fatto importante, avete visto i numeri che sono cresciuti fortemente, questo ha comportato anche le prime sistemazioni, l'utilizzo diverso degli spazi che abbiamo oggi, anche una riorganizzazione di attività sanitarie, si è fatto un salto di qualità anche nella reazione. Avere sei persone in terapia intensiva che devono essere lasciate isolate non è banale, immaginando che questo numero possa anche crescere, significherà anche qui fare scelte di riorganizzazione perché i numeri isolati sono in terapia intensiva a pochi posti e servirà invece a organizzare le cose in maniera diversa. Andiamo persone che hanno un'età dal più giovane, attorno ai 50 anni, la maggior parte che sono persone anziane, attorno agli 80, quindi con un impegno importante da parte delle strutture sanitarie a seguire le attività. E in questo momento per noi il doppio binario è quello di continuare a spingere sulle misure di prevenzione perché leggiamo oggi anche dall'altra parte che è la risposta sanitaria. Più prevenzione possibile, più rallentamento possibile del contagio, significa anche poter gestire al meglio la risposta sanitaria, poterla mano a mano proporzionare a quello che serve. La Giunta ha stanziato un milione di euro, sarà la prima cifra, probabilmente ne daremo altre. fondi nostri proprio a favore delle strutture sanitarie per le spese che hanno extra necessità e quindi stiamo anche sostenendo sotto il profilo economico quelli che sono i bisogni crescenti. Oggi pomeriggio dovrebbero arrivare anche nuove forniture di materiali da parte di protezione civile nazionale per dare ancora più presidi rispetto a quelli che abbiamo messo oggi a disposizione con grande attenzione perché veramente numeri risicati ed è stato tutto gestito per fare in modo che chi ne avesse bisogno ne avesse a disposizione davvero, presto dovremo poter contare su quantità più importanti anche per lavorare diciamo in un modo, tra parentesi diciamo un po' più tranquillo quindi potendo contare su una disponibilità di materiale che supporta l'attività. Per terapia intensiva o rianimazione serviranno delle unità in più? Sì, noi speriamo fondamentalmente di no, però immaginiamo che a seconda di come andrà la crescita del numero dei contagiati potrebbero servire di più. Il salto di qualità nell'organizzare una cosa che si chiamano sporche, ma non è che sono sporche sono pulitissime terapia intensiva, cioè aree dove vengono messi tutti i contagiati. In terapia intensiva non so chi l'ha vista, sono letti affiancati uno all'altro con un altissimo livello di sorveglianza medico-infermieristica e crescendo il numero una terapia intensiva diciamo verrà tra virgolette dedicata completamente ai malati contagiati e questo permetterà quindi di raddoppiare facilmente i numeri. Poi dopo, come dicevo, il lavoro di contenimento aiuterà moltissimo a evitare che queste situazioni possano arrivare a mettere in crisi il sistema sanitario.